Buongiorno, benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo di una classe particolare che si chiama Object. Cos'è la classe Object? Allora, sembra un'antinomia, nel senso che una classe è un oggetto, ma in realtà in Java esiste una classe che si chiama esattamente Object. Quali sono le caratteristiche? Allora, sostanzialmente la classe Object è stata pensata in Java per essere la super classe di tutte le classi che esistono. Quindi, in pratica, tutte le volte che noi andiamo a dichiarare una classe senza andare a specificare da quale classe estende, implicitamente il compilatore aggiunge una dichiarazione del tipo ExtendsObject. Quindi, ogni classe di fatto estende Object, o direttamente oppure indirettamente in base attraverso quella che è la sua classe di base. Quali sono le motivazioni per avere questa classe di base? Sostanzialmente, innanzitutto, in termini di generalità, noi abbiamo la possibilità, utilizzando il polimorfismo, di poter vedere qualunque oggetto di qualunque classe come un oggetto di classe Object. E quindi, i riferimenti di tipo Object rappresentano quelli che sono dei puntatori universali. Inoltre, abbiamo la possibilità, inserendo dentro la classe Object opportuni metodi, di avere dei comportamenti che sono comuni a qualunque oggetto io vada ad avere in Java. Ovviamente, queste operazioni avranno un funzionamento base all'interno della classe Object e potranno essere ridefinite tramite degli override in tutte le sottoclassi. In termini di generalità, dicevamo, quindi, io posso andare a vedere un oggetto di una qualunque classe attraverso un riferimento di tipo Object. Quindi, io posso comunque sempre contare sulla possibilità del compilatore di fare un upcast, ricordiamoci, andiamo verso l'alto, a un riferimento di tipo Object. In pratica, i riferimenti di tipo Object in Java giocano lo stesso ruolo che avevano i riferimenti di tipo Void in C. Per cui, in pratica, posso, ad esempio, andare ad avere una raccolta di oggetti messa dentro un array di tipo Object in cui metto delle stringhe, degli impiegati, degli interi e dei numeri. Attenzione che devo utilizzare i tipi wrapper. Se non uso dei tipi wrapper, come in questo caso, implicitamente c'è un meccanismo di autoboxing, quindi il compilatore in realtà qui mi inserisce di nascosto un new integer di 42. A questo punto posso tranquillamente andare a fare un ciclo su tutti gli oggetti. Quindi, se andiamo a rivisitare la nostra gerarchia impiegato, manager e CEO, ecco, impiegato in realtà, implicitamente eredita da Object. Abbiamo detto che Object può definire una serie di meccanismi comuni che sono utili di metodi che sono sostanzialmente posizionati all'interno della classe. I principali metodi definiti dentro la classe Object sono principalmente il metodo String, il metodo ToString che permette di convertire un oggetto in una sua rappresentazione stringa, il metodo Equals che permette di andare a confrontare il contenuto di oggetti, il metodo HashCode che restituisce un codice unico, e poi ci sono un paio di metodi protetti, clone e finalize, che vedremo poi più avanti. Iniziamo dal metodo ToString che è quello più utilizzato in maniera universale. Il suo obiettivo è quello di andare a restituire una rappresentazione in formato String di un oggetto in modo che possa essere stampato. L'implementazione di default che è fornita dentro la classe Object sostanzialmente restituisce il nome della classe, una chiocciola e poi quello che è il codice di Hash, restituito dal metodo HashCode in formato esadecimale. Ad esempio, se abbiamo la classe Employee dentro il Package.org, quello che otteniamo è OrgEmployee, chiocciola e poi FlashCode. Il metodo Equals invece va a verificare, è pensato per andare a verificare, l'uguaglianza tra due oggetti. Ovviamente all'interno della classe Object è impossibile sapere come saranno fatte le classi derivate, e quindi viene data un'implementazione molto di base che sostanzialmente ricade nell'andare a confrontare i riferimenti. Per cui, se io non ridefinisco il metodo Equals in una classe derivata, per forza l'Uguale Uguale ed Equals mi daranno lo stesso risultato, quindi andrò a fare un confronto semplicemente sull'uguaglianza dei riferimenti e non sull'uguaglianza dei contenuti. Quindi è necessario andare a ridefinire il metodo Equals in modo da confrontare quelli che sono i contenuti. Quali sono le regole che devo seguire andando a ridefinire il metodo Equals? Sostanzialmente devo ricordarmi che il metodo Equals deve essere riflessivo, quindi x deve essere uguale a se stesso. Deve essere simmetrico, quindi se x è uguale a y, anche y deve essere uguale a x. Deve essere transitivo, quindi se x è uguale a y, y è uguale a z, allora x deve essere uguale a z. Deve essere soprattutto consistente, ovvero se io chiamo il metodo Equals più volte su un oggetto, questo mi deve restituire sempre lo stesso risultato, o vero o falso. Quindi in generale dovrei utilizzare all'interno del metodo Equals semplicemente informazioni che non possono essere cambiate. Per cui il metodo Equals funziona benissimo con gli oggetti della libreria di base, tipo i wrapper oppure le classi string, perché sono oggetti immutabili. Quindi una volta che ho appurato che due oggetti sono uguali, il loro contenuto non può essere cambiato e quindi resteranno uguali per sempre. Inoltre il metodo Equals deve essere robusto e deve andare a restituirmi un valore falso quando cerco di confrontare un oggetto con null. Ecco un esempio di metodo Equals per la classe employee. Allora, innanzitutto un'osservazione importante deve essere fatta considerando il parametro del metodo Equals. Il parametro del metodo Equals è un oggetto di tipo Object. Perché? Perché essendo definito dentro la classe Object non può che avere un altro tipo di parametro. Quindi io non posso andare ad accedere agli attributi di un qualunque oggetto tramite un riferimento di tipo Object. Devo fare un'operazione di Cast. Questo è un classico DownCast, quindi deve essere esplicito. Ovviamente il DownCast potrebbe non essere sicuro. Per cui prima di fare il DownCast devo andare a verificare se o è un instance of di employee, la classe in cui sto andando a ridefinire il mio metodo Equals. E se o non è un'istanza di employee, restituisco semplicemente falso. Quindi se cerco di confrontare un impiegato con un oggetto di un altro tipo, il risultato è che sostanzialmente o false. Se io non mettessi questo controllo prima di fare il DownCast, il rischio sarebbe quello di avere un ClassCastException. Invece così garantisco un minimo di sicurezza in più. Una volta che ho fatto il DownCast dal parametro O al riferimento Other, posso semplicemente andare a confrontare this.name equals other.name. Quindi vado sostanzialmente a confrontare i nomi dei due impiegati. Se i nomi sono identici, allora considero che anche gli impiegati siano uguali. Attenzione, questo metodo equals che vedete chiamato qua non è lo stesso che sto scrivendo qui, quindi non è una chiamata ricorsiva. Questo metodo equals è il metodo equals definito dentro stringa. Infatti name è un di tipo stringa. Quindi vado a chiamare il metodo equals per come è ridefinito dentro la classe stringa. Sono sostanzialmente due ridefinizioni, quella che vediamo qua e quella che è definita dentro stringa. Sono due override dello stesso metodo definito originariamente dentro la classe object. Però sono due metodi chiaramente distinti. Il meccanismo del dynamic binding, in questo caso, trova la ridefinizione dentro string e se invece chiamo il metodo equals su due oggetti, troverà questa definizione che stiamo vedendo ora dentro la classe employee. attenzione, avevamo detto anche che il metodo equals deve poter dare un risultato falso quando cerco di confrontare un oggetto con null e in effetti instance of, quando cerco di fare un'operazione di null instance of di qualunque cosa, il risultato è comunque falso. Quindi questo primo test, oltre ad andare a scartare i confronti con oggetti che non sono del tipo corretto, mi elimina anche la possibilità di andare a confronti con null e quindi mi restituisce in entrambi i casi un risultato di falso. Abbiamo poi parlato del metodo hashcode che sostanzialmente è pensato per restituire quello che è un codice circa unico per l'oggetto che può essere utilizzato come indice all'interno di tabelle di hash. Non approfondisco il concetto di tabelle di hash, anche perché i dettagli non ci interessano, per chi ha fatto dei corsi di algoritmi e programmazione avanzata sicuramente sa di cosa si tratta. L'implementazione di default che è definita dentro object normalmente restituisce l'indirizzo dell'oggetto all'interno della memoria dinamica. In generale è buona norma andare a ridefinire questo metodo nelle classi che possono essere utilizzate all'interno di tabelle di hash. Quali sono i criteri per andare a definire questo metodo? Sostanzialmente il metodo hashcode deve essere consistente col metodo equals, nel senso che devono essere verificate queste condizioni. Sostanzialmente se due oggetti, x e y, sono uguali, quindi il metodo equals non restituisce true, allora è necessario che anche i loro codici di hash siano uguali. Quindi equals ed hashcode dovrebbero basarsi sugli stessi attributi degli oggetti per il calcolo. e se gli hashcode di due oggetti sono uguali, allora è possibile, ma non è strettamente necessario, che anche i due oggetti siano uguali. Se due oggetti non sono uguali, non c'è nessun requisito su gli hashcode. Potrebbero essere diversi, potrebbero essere uguali, è indifferente. Se gli hashcode invece sono diversi, è necessario che i due oggetti non siano uguali. Quindi chi domina sostanzialmente è l'uguaglianza tra gli oggetti che implica l'uguaglianza tra gli hashcode. Non è vero il viceversa. A questo punto vediamo in generale come possiamo utilizzare i metodi che abbiamo appena descritto. Un esempio è dato dal metodo print, è anche da println che sta dentro l'oggetto out della classe system. Print che cosa fa? Quando viene chiamato con un parametro object, sostanzialmente chiama il metodo toString del parametro che gli viene passato e quindi sostanzialmente è in grado di stampare il contenuto di un oggetto utilizzando il metodo toString. Quindi chiamare print di e dove è un impiegato equivale a chiamare print di e toString. Quindi e toString mi restituisce una stringa e quindi mi stampa la stringa. Print di e sostanzialmente chiama il toString e poi stampa la stringa risultato. E' ovvio che se io ho ridefinito il metodo toString della classe employee, ottengo un certo risultato. Se invece non l'ho ridefinito, otterrò sostanzialmente la stampa di employee, chiocciola e poi un numero esadecimale che normalmente corrisponde all'indirizzo in memoria dell'oggetto employee. Un altro uso dell'oggetto è quando io ho un numero variabile di parametri. Io posso andare a mettere ad esempio print list, che può essere chiamata in questo modo print list, metto una stringa che è un prefisso e poi ho un numero variabile di parametri che sono indicate con object puntini 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 args. Esattamente come per la lista delle variabili di parametri di tipi primitivi, questa lista variabile di parametri all'interno di questo metodo verrà vista esattamente come un array di object e quindi posso andare a costruire un'iterazione su tutti gli elementi di questo array, ad esempio andandoli a stampare. con un print, ovviamente il print in questo caso cosa fa? Chiama il metodo toString dell'oggetto. Risultato, se io chiamo print list, list, due punti, a, b, 1, 2, 3, i, cosa succede? Che ho come stampa list, due punti e poi tutti questi elementi separati da viengola. Attenzione, qui quando ho 1, 2, 3, il valore che viene passato, oppure quando ho b, non è il tipo primitivo ma bensì l'oggetto character che viene costruito a partire da b. per 1, 2, 3, la stessa cosa, avrò un oggetto che viene costruito a partire dal valore. In effetti devo avere un array di oggetti e quindi devo avere degli oggetti, non dei tipi primitivi. L'autoboxing, quindi la capacità del compilatore automaticamente di convertire un tipo primitivo nel corrispondente oggetto wrapper, viene sfruttato in questo caso. È un qualcosa che è comodo ma che deve essere tenuto in considerazione perché è un'operazione, come la creazione di qualunque oggetto, un'operazione costosa e quindi se l'operazione viene eseguita molto spesso rischiamo di non vedere direttamente nel codice un'operazione che invece è costosa e quindi può creare, può occupare memoria e può richiedere più tempo. Quindi in generale, attenzione tutte le volte che abbiamo dei possibili autoboxing che sono nascosti. Quindi abbiamo visto come nel linguaggio Java esiste una classe speciale che si chiama Object che è la base di tutte le classi. Questa classe ci dà due caratteristiche fondamentali. Uno ci dà un modo di andare a utilizzare un riferimento di tipo generale che è in grado di puntare a qualunque tipo di oggetto. Un esempio lo vediamo qua. L'altra caratteristica importante della classe Object è che ci fornisce una serie di metodi standard toString, Equals e HashCode che possono essere ridefiniti e spesso devono essere ridefiniti nelle classi derivate. Qual è il vantaggio di averli definiti dentro la classe Object? è che io, senza sapere nulla, posso scrivere dei metodi generici che prendono un object e chiamano il metodo toString o il metodo Equals. A questo punto abbiamo a disposizione questa classe e dovremo utilizzarla in maniera appropriata tutte le volte che noi andiamo a definire una nuova classe e valutando se è il caso di ridefinire il metodo toString e se è il caso di ridefinire il metodo Equals ed eventualmente anche il metodo HashCode. Le interfacce sostanzialmente sono una variante delle classi dove tutti i metodi sono implicitamente astratti quindi non hanno un'implementazione, un corpo. Gli attributi eventualmente dichiarati sono static e final e tutti i membri sono di nuovo implicitamente public. In particolare le interfacce sono distinte dalle classi normali dall'uso della parola chiave interface invece di classe. Avendo tutti gli attributi, scusate, avendo tutti i metodi astratti sostanzialmente non possono essere istanziate esattamente come le classi astratte. Tuttavia, di nuovo, come le classi astratte possono tranquillamente essere utilizzate come tipo di un riferimento. Quindi, quando io vado a dichiarare un'interfaccia qui abbiamo l'esempio delle espressioni che avevamo visto come potevamo dichiararle in termini di classi astratte qui l'abbiamo dichiarata expression come un'interfaccia dove abbiamo i metodi evil e formula che sostanzialmente, pur non avendolo scritto, sono astratti e pubblici. Quindi, normalmente, un'interfaccia è un meccanismo che ci permette di andare a scrivere in maniera molto più sintetica quella che sarebbe una classe totalmente astratta. Come facciamo a ereditare da un'interfaccia? Per ereditare da un'interfaccia usiamo la parola chiave implement per cui, ad esempio, la classe value implements expression e ovviamente va a ridefinire i due metodi value e formula con quello che è il meccanismo classico dell'override. Esattamente come per le classi astratte una classe che implementa un'interfaccia deve andare a fornire l'implementazione di tutti i metodi altrimenti deve essere dichiarata astratta. Come funziona, quindi, il meccanismo dell'ereditarietà tra classi e interfacce? Allora, in generale, un'interfaccia non può estendere una classe. Un'interfaccia semplicemente può estendere altre interfacce. Mentre, per quanto riguarda le classi le classi possono estendere una sola altra classe. E' sempre esattamente una perché se non metto nessuna classe estesa da una mia nuova classe implicitamente sto estendendo object. Mentre, invece, una classe può implementare tante interfacce. Il fatto che ci sia un'unica classe che può essere estesa normalmente va sotto il nome di single inerritance mentre, invece, il fatto che io posso implementare più interfacce viene chiamato una multiple inerritance. In alcuni linguaggi di programmazione ad oggetti diversi da Java è possibile la ereditarietà multipla anche tra le classi. Tuttavia, l'ereditarietà multipla tra le classi pone alcuni problemi soprattutto quando ci sono attributi o metodi identici definiti in due classi che vengono estese e quindi c'è il problema di come risolvere queste eventuali ambiguità. Per l'ereditarietà multipla dalle interfacce questo problema non si pone perché anche nell'ipotesi di avere due metodi identici in due interfacce che vengono ereditate questi sostanzialmente non hanno nessuna implementazione nell'interfacce e quindi l'implementazione che viene assegnata a questo metodo che ha un nome definito in due interfacce comunque è unica ed è definita nella classe. In UML normalmente utilizziamo un simbolo leggermente diverso ovvero una linea tratteggiata per andare a indicare l'implementazione di un'interfaccia mentre invece usiamo la linea continua per l'estensione quindi l'ereditarietà tra le classi. Come sintesi sostanzialmente abbiamo che una classe può estendere esattamente un'altra classe mentre invece può implementare molte interfacce eventualmente anche nessuna mentre un'interfaccia non può estendere alcuna classe mentre invece può estendere anche lei molte altre interfacce. Le interfacce possono essere utilizzate in Java per andare a definire quelle che sono delle classi anonime. come funziona la definizione di una classe anonima? Sostanzialmente io posso andare a dichiarare un nuovo oggetto che ha come tipo l'interfaccia e andare a dire new interface aperta chiusa tond ecco, se io mi fermassi qua questo verrebbe considerato dal Java un errore di sintassi perché abbiamo detto un'interfaccia sostanzialmente ha tutti i metodi estratti e quindi non può essere istanziata ma io non mi fermo qui vado a mettere una coppia di graffe al cui interno vado a fornire l'implementazione dei metodi definiti nell'interfaccia. Vi faccio notare che l'operazione di new quindi di creazione del nuovo oggetto e la definizione della nuova classe che implementa l'interfaccia sono fatti tutte nello stesso sostanzialmente fase quindi il nome della classe che sto dichiarando qua ovviamente non è presente perché interface qui è il nome dell'interfaccia che è già dichiarata separatamente quindi questa classe non ha un nome per questo motivo queste vengono chiamate classi anonime in effetti se torniamo alla nostra definizione di diverse tipologie di classi annidate queste sono classi locali perché sono dichiarate ovviamente dentro all'interno di un metodo io posso fare una new soltanto all'interno di un metodo e sono anonime se vengono definite dentro un metodo statico queste classi saranno implicitamente statiche se invece vengono definite dentro un metodo normale di istanza ovviamente saranno classi interne quindi manterranno il riferimento all'oggetto che le ha create un piccolo chiarimento relativo al termine interfaccia abbiamo parlato di interfacce quando abbiamo introdotto il tema dello sviluppo orientato agli oggetti abbiamo detto che un'interfaccia sostanzialmente in termini generali è l'insieme dei metodi pubblici che vengono definiti a una classe quindi il sottoinsieme di metodi definiti da una classe che sono pubblici quindi sono accessibili dall'esterno della classe quindi dagli altri elementi che usano un oggetto della classe viene di solito chiamato in termini generici interfaccia in java interfaccia è una parola chiave che permette di andare a definire una variante di quelle che sono le classi quindi è un concetto diverso anche se è sostanzialmente correlato perché quando una classe implementa un'interfaccia tutti i metodi di quella interfaccia java sostanzialmente costituiscono una interfaccia intesa nel senso più generale della classe quindi attenzione quando usiamo il termine interfaccia perché interfaccia in senso generale significa tutti i metodi pubblici o comunque una particolare sotto insieme dedicata a un particolare scopo mentre invece interfaccia quindi la parola chiave interface ha un significato molto più definito e ristretto abbiamo detto che all'interno delle interfacce è possibile andare a definire dei metodi che siano statici i metodi statici all'interno di un'interfaccia ovviamente non possono fare riferimento a metodi di istanza perché ovviamente oltre a non essere dichiarati perché non hanno il corpo non abbiamo la possibilità di fare riferimento a un particolare oggetto non esiste un this essendo un metodo statico esattamente come per le classi irregolari non possono andare a modificare gli attributi statici perché per default nelle interfacce tutti gli attributi sono sostanzialmente final quindi sostanzialmente corrispondono a delle costanti ovviamente possono fare riferimento ai loro parametri e a partire dalla versione 8 di java possono essere ridefiniti quindi io posso andare a fare in una classe che implementa un'interfaccia fare un override di un metodo statico definito nell'interfaccia implementata oltre ai metodi statici in java a partire dalla versione 8 è possibile andare a definire dei metodi che vengono chiamati di default cosa sono dei metodi di default sono sostanzialmente dei metodi che a differenza degli altri metodi normalmente dichiarati in interfaccia hanno un'implementazione quindi hanno un corpo del metodo ovviamente un metodo di default può fare riferimento agli altri metodi definiti nell'interfaccia ovviamente non possono fare riferimento ad alcun attributo non statico anche perché nell'interfaccia non esistono attributi non statici sarebbero eventualmente definiti in una sottoclasse però nell'interfaccia questi non sono noti e ovviamente possono essere ridefiniti quindi una classe che implementa un'interfaccia che contiene un metodo di default può fare un override a che cosa servono i metodi di default? Sostanzialmente permettono di andare a inserire un comportamento all'interno di un'interfaccia che altrimenti sarebbe puramente dichiarativa e quindi si comportano come dei metodi normali quindi sostanzialmente ci danno la possibilità di avere molto più potere espressivo perché ricordiamoci con le interfacce è possibile avere l'ereditarietà multipla e quindi io posso andare a ereditare non soltanto la dichiarazione dei metodi ma bensì anche la loro implementazione da più interfacce un altro elemento importante è che io posso andare a modificare delle interfacce preesistenti immaginate di avere un'interfaccia nella versione 1 del vostro sistema nella versione 2 io vorrei andare a modificare quell'interfaccia però se definisco un metodo in quell'interfaccia tutte le classi che la implementavano e che quindi nella versione 1 funzionavano non funzionano più perché non implementano quel metodo quindi una possibilità è quella di andare a definire un metodo statico scusate un metodo di default che rende corrette le classi che già implementavano l'interfaccia perché essendo un metodo di default ha già la sua implementazione e quindi non deve essere ridefinito ma può essere ridefinito nelle nuove classi che quindi vanno a sfruttare nuove caratteristiche di quell'interfaccia quindi è un meccanismo che mi permette di preservare una certa compatibilità nell'evoluzione delle interfacce fine una notazione di terminologia in Java esiste un insieme particolare di interfacce che sono chiamate interfacce funzionali e che sostanzialmente hanno un unico metodo di istanza qual è la motivazione è che sostanzialmente queste interfacce sono sostanzialmente delle funzioni perché non potendo definire metodi non potendo definire attributi il risultato di questi metodi sostanzialmente corrisponde a quelli che sono i parametri ovviamente un'interfaccia funzionale può contenere altri eventuali metodi che siano statici oppure di default una caratteristica importante delle interfacce funzionali è che quel metodo deve avere una semantica funzionale ovvero il risultato del metodo dipende esclusivamente da quelli che sono i suoi parametri un esempio è ad esempio l'interfaccia Java Langer Comparator che vedremo in funzione tra poco in Java l'utilizzo delle interfacce funzionali è abbastanza diffuso soprattutto dal momento in cui sono state definite a partire dalla versione 8 di Java e per questo motivo ci sono una serie di interfacce funzionali già predefinite che quindi possono essere utilizzate all'interno di un package che si chiama java util.function ad esempio queste sono le principali interfacce definite in questo package vediamone qualcuna allora consumer è un'interfaccia che è un unico metodo che si chiama accept che sostanzialmente riceve un parametro e non restituisce nulla fa qualche elaborazione lo stampa lo salva da qualche parte l'interfaccia che fa l'operazione inversa si chiama supplier che sostanzialmente è un metodo che si chiama get che restituisce un oggetto quindi genera sostanzialmente fornisce degli oggetti ogni volta che viene chiamato restituisce un nuovo oggetto abbiamo poi una interfaccia che si chiama predicate che è un metodo test a cui passiamo un oggetto e sostanzialmente esegue un test e ci dà il risultato e poi abbiamo l'interfaccia function che se volete è il prototipo la cosa più ovvia a cui potremmo pensare che ha un metodo che si chiama apply che riceve un parametro e restituisce un valore e poi abbiamo una variante che si chiama by function che riceve non uno ma due parametri e restituisce un valore come vedete tutti i parametri e valori restituiti tranne ovviamente predicate sono degli oggetti quindi queste sono interfacce funzionali assolutamente generali quindi possono essere utilizzate passando oggetti di qualunque tipo il problema è che definiti così questi valori di ritorno devono poi essere convertiti in un tipo più corretto tramite un downcast che tendenzialmente può avere dei problemi per questo motivo vedremo che in realtà questa definizione che vediamo qua non è quella esattamente definita nelle librerie Java ma è leggermente diversa e utilizza una nuova funzionalità di Java che si chiama i generics di cui parleremo sostanzialmente dopo aver affrontato concluso il nostro discorso sull'ereditarietà questi sono tutte le interfacce funzionali che permettono di andare a gestire degli oggetti ovviamente può essere utile avere la gestione anche di tipi primitivi per cui ad esempio c'è tutta una serie di funzioni pensate per il tipo int per cui abbiamo un apply che riceve un int e restituisce un object un consumer che riceve un int un predicate che riceve un int un supplier che ha un metodo che si chiama get as int e restituisce un int e un int binary operator che riceve due interi e restituisce un int quindi abbiamo una serie di funzioni già predefinite che ci danno le tipologie principali di conversioni funzionali quindi ricordiamoci che tendenzialmente il valore dipende dal parametro che viene passato a questo punto abbiamo visto le caratteristiche fondamentali dell'ereditarietà in java abbiamo visto come funzionano le estensioni tra le classi abbiamo visto le classi astratte abbiamo visto la classe object che è la base di tutte e poi adesso abbiamo parlato delle interfacce a questo punto si tratta di capire come possiamo andare a utilizzare nel concreto l'ereditarietà e in particolare le interfacce che sono quelle che ci danno molta più flessibilità rispetto alle altri costrutti per scrivere del codice e andare a risolvere problemi tipici che troviamo nell'andare a risolvere delle richieste e andare a implementare del codice risolore risolvere